Sì, ma anche per questa tua performance che si è prolungata, per questi 12 brani. L'anno prossimo i brani saranno 30, ve lo diciamo, saranno 30, però vi cambierete il loco, faremo una cosa giusto per smorzare i tempi morti. Perfetto, allora l'appuntamento quindi è all'anno prossimo con questa manifestazione, l'estate mongrastanese continua con tanti appuntamenti e quindi ringraziamo, io lo faccio, ringrazio le persone che stanno togliendo tempo e il loro tempo per realizzare cose di questo tipo che possono solamente fare bene a tutti quanti noi e farci trascorrere qualche giorno e qualche serata un pochino più spensierate. Allora, tra poco i pancake, poi continua, quindi ancora grazie, grazie a loro, grazie a te, grazie a tutti quanti voi, l'appuntamento per l'anno prossimo e un buon continuo di estate qui a Mongrassano. Applauso, grazie, applauso, applauso, applauso. E dai! Ecco, queste sono le cose vere, non sorgerate, verità e soprattutto spontaneità, hai capito? Fai una bellissima ripresa. La domanda è Francesco Martini che fine ha fatto? Ma non c'è, ma ne hai capito? Ah già, ok, la sua soglia è stata faccia. Riprendi Roberto che ti riprende, riprendi Roberto che ti riprende. Ah, se si prendi Roberto che ti riprende. Va bene, è finito. Oh, stand by me, oh, stand, stand by me, stand by me. It's the sky that we look upon, should tumble and fall, or the mountain should crumble.